Mi chiamo Paola Verdolotti, sono una dottoranda di ricerca in formazione del diritto europeo, fondamenti storico-filosofici del diritto positivo, presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. La mia ricerca si concentra soprattutto sul tema delle proprietà collettive, osservato da questa prospettiva particolare costituita dalle università agrarie, che è una realtà territoriale della regione Lazio, quindi del centro Italia, molto risalente nel tempo, al XVIII secolo, che si occupa appunto della gestione in modo collettivo delle risorse naturali di questo determinato territorio dell'Italia centrale. Naturalmente, secondo determinate regole stabilite dagli statuti, e secondo delle consuetudini antichissime. Le università agrarie incrociano la legislazione nazionale, quindi l'ordinamento giuridico nazionale, con una legge del 1888, prevista, lo incontrano in modo, è incrociato questo tema delle università agrarie, questo incrocio tra legislazione e università agrarie avviene in modo abbastanza casuale, perché la legge era stata formata appunto per l'eliminazione, per l'abolizione degli usi civici nell'ex provincia pontifice, nella zona centrale dell'Italia. E sostanzialmente queste realtà emergono nella legislazione, ma come poi sarà pure più avanti con la legge del 1927 e la numero 1766 durante il regime fascista, tendono a far emergere queste realtà, in realtà ha solo scopo di eliminarle, di liquidarle, dice la legge, insieme agli usi civici dall'ordinamento, appunto perché risalenti, richiamanti delle realtà prestatuali, precodificatorie, che quindi si riagganciavano a consuetudini antichissime, ben radicate sul territorio. E quindi la legislazione sostanzialmente ha avuto, si può registrare insomma in questo approccio della legislazione con le università agrarie un segno negativo, insomma, di eliminazione, di riduzione di questo fenomeno. Questa terza via, diciamo, a metà strada tra il privato e il pubblico è stata molto efficiente nei secoli passati, quindi durante il corso di tutto l'Ottocento e per la prima parte del Novecento, la prima metà del Novecento, perché appunto l'economia sostanzialmente si basava sulla produzione agricola, sull'agricoltura, quindi era il settore maggiormente trainante anche dell'economia nazionale in quel periodo, quindi diciamo quelle terre che facevano parte del patrimonio delle università agrarie, diciamo erano molto ben sfruttate e quindi sorreggevano tutta l'economia locale, quindi il sostentamento delle stesse comunità. Però via via, poi a partire dagli anni Sessanta c'è stato un abbandono da parte delle comunità locali della lavorazione della terra, perché era un'attività poco remunerativa e quindi poi piano piano queste realtà si sono spente sempre di più fino ad oggi che hanno completamente mutato le proprie funzioni, infatti da enti, perché poi sono stati riconosciuti come enti giuridici con una legge di fine Ottocento del 1894 di gestione collettiva del territorio con cui venivano amministrato l'uso delle terre, la gestione dei pascoli e il taglio dei boschi, ha delle funzioni attualmente che diciamo vanno dalla tutela paesaggistica alla tutela del territorio, all'allevamento di alcune razze che sono in via di estinzione, per esempio per quanto riguarda proprio il mio caso specifico di studi dell'Università Agraria di Tolfa, per quanto riguarda appunto l'allevamento di questa razza maremmana, sia bovina che cavallina che via di estinzione, quindi si occupano prevalentemente di queste attività, quindi hanno abbandonato quelle originarie funzioni che avevano in precedenza. La gestione delle università agrarie oggi infatti può risultare diciamo efficace sotto questo profilo quindi di tutela del patrimonio, di conservazione del territorio, ma non ha più quella funzione propria economica di sostentamento della comunità che poteva avere invece nel corso dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento fino agli anni 50-60 dello scorso secolo. Attualmente le università agrarie, come dicevo prima, non svolgono più quel ruolo economico essenziale che avevano tra Otto e Novecento, quindi attualmente diciamo sostenibilità intesa nel senso di tutela paesaggistica, di tutela anche del territorio, quindi sostanzialmente questa è la funzione residuale rimasta oggi di queste realtà che vanno sempre più scomparendo perché non sono più agganciate a queste importanti funzioni economiche che avevano nel passato. Grazie a tutti.